E' un giunghierin E' un giunghierin E' un giunghierin E' un giunghierin E' un giugna E come ho i pensi di che l'altro è l'occhio? Ache l'occhio che si deve di fare. Achele che si deve di lasciare. Achele che si deve di smetteare. E come ho i torni da quell'altro è l'occhio. Ache a passù che si deve di fare. Achele che si deve di lasciare. A ricordarsi di che si deve di smetteare. Achele che si deve di essere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.